buon pomeriggio a tutti grazie del vostro della vostra presenza mi chiamo toni principi e sono vicepresidente di un'associazione che si chiama is es e vi spiegherò adesso il motivo della mia presenza l'argomento che tratteremo in questi minuti a disposizione è proprio parlare del dissesto idrogeologico alcune sue normative a livello istituzionale e anche quello che determina alcune norme importanti per quello che riguarda il drenaggio lineare perché all'interno del dissesto idrogeologico appartiene anche il settore del drenaggio lineare come dicevo io appartengo un'associazione che si chiama l'aises l'aises si occupa è un'associazione italiana di segnaletica e sicurezza stradale e fa parte del gruppo finco un'altra associazione che racchiude una serie di attività di imprese di altre associazioni che si occupano dell'edilizia una delle cose importanti che normalmente fanno le associazioni è proprio tutelare gli interessi di tutti gli associati ovviamente per fare questo bisogna stare a contatto e partecipare ai tavoli più istituzionali possibili per cercare di far prorogare potenziali norme che possono comunque aiutare il settore del dissesto idrogeologico e in questo specifico quello che è il drenaggio lineare per questo come tutti i giorni leggiamo nei giornali è pieno di inondazioni tutto quello che noi vediamo allagamenti siamo comunque vicini a tutto quello che ci succede continuamente perché il dissesto idrogeologico è un tema molto attuale dovete pensare che si investe tantissimo dal punto di vista mediatico anche giornalistico cartaceo ma non si fa abbastanza da un punto di vista operativo nel nostro territorio e per questo vi farò vedere anche cosa significa essere più o meno operativi come potete vedere quando c'è molta acqua nella superficie ci sono non solo acqua planning ma vengono provocate delle falde questo riguarda invece l'acqua planning vediamo se e soprattutto quello che è la scarsa visibilità per questo le associazioni lavorano a fianco a braccetto con le istituzioni proprio per portare all'attenzione questo tema che è molto molto attuale questo è un altro dato molto importante vado a prendere alcune informazioni il fenomeno dell'acqua planning unito alla scarsa visibilità ha causato gravi incidenti in europa nel corso del 2018 sono stati 2418 i decessi avvenuti per incidenti stradali causati dalla pioggia di cui 283 in italia senza tener conto del numero delle persone che sono state costrette ad essere state ricoverate le conseguenze di accumuli di acqua nel dissesto biologico provoca tantissimi altri danni come in questo caso quante volte ci siamo trovati a dover affrontare un sottopasso dove magari c'è un grande accumulo d'acqua perché succede questo molte persone pensano che sia solo dovuto dal fatto che c'è una intensità maggiore di pioggia che cade nei nostri terreni è vero la pioggia è cambiata è molto più violenta ma non dobbiamo dimenticare che questi ultimi 30 anni comunque in italia abbiamo costruito molto abbiamo cementificato molto e più noi cementifichiamo e creiamo strutture solide di superficie asfaldi pavimentazioni e più è chiaro che l'acqua ha meno possibilità di poter essere smaltita e questo va a intasare e a creare in molti casi anche allagamenti laterali alle pavimentazioni addirittura a provocare delle falde o addirittura delle delle grandi pozze all'interno della pavimentazione e ne sottopassi la stessa identica cosa se non vengono ben drenati e non viene pianificato il drenaggio quello che succede quello che voi state vedendo direttamente nell'immagine questa è un'altra slide simpatica per far vedere che in tutte le città volte siamo costretti a saltare no qualche pozza d'acqua perché comunque non c'è un drenaggio abbastanza adeguato c'è una novità importante perché parliamo di parliamo proprio di del lavoro istituzionale che ha fatto l'associazione ok e la priorità sicuramente era avere dei soldi da spendere dal punto di vista nazionale si parla tanto di 110 a livello nazionale ma il dissesto geologico dovete sapere che non rientra nel sistema del 110 è stato completamente escluso ed è stata creata una 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 nicchia una parte di questo settore specifico non appartenendo al 110 perché il 110 rappresenta prettamente quello che riguarda gli edifici quindi palazzi casi condomini una parte importante ma quello che all'interno del dissesto idrogeologico non è stato incluso ma nello stesso tempo la buona notizia che hanno stanziato 2,5 miliardi per il dissesto idrogeologico e all'interno del dissesto idrogeologico rientra tranquillamente tutto quello che il drenaggio lineare delle acque e questo per noi è una buona notizia che siamo riusciti ad ottenere grazie al lavoro dell'aises e della finco per il nostro futuro perché come ho sentito questa mattina sicuramente il 110 finirà e molte risorse qualsiasi stato in particolar modo l'italia dovrà investire i soldi su quello che la parte infrastrutture che è una delle cose più importanti che anche questo notiamo le le difficoltà o notiamo le criticità che ci sono in italia questo è per far vedere alcune installazioni e per dare l'idea di cosa significa un drenaggio lineare che sono queste famose canalizzazioni griglie che raccolgono l'acqua dalla superficie non è un problema di canalizzazioni è un problema di di vedere una griglia non messa bene è un problema di cultura siccome non c'è la cultura molte volte vengono installati i manufatti non perfettamente idoni e poi il risultato è questo e questo può provocare dei danni ma il focus non è principalmente il manufatto è quanto creare cultura nella progettazione e nell'installazione di un manufatto che possa essere a norma vi voglio far vedere alcuni dati statistici molto importante molto importanti pensate che in italia rispetto a un paese europeo il sistema di drenaggio lineare copre solo un 5 6 per cento del territorio mentre negli altri paesi europei francia e ghilterra germania polonia bulgaria il drenaggio lineare copre un 20 per cento del territorio sicuramente installare sistemi di drenaggio non risolve il problema del dissesto idrogeologico ma è stato dimostrato dagli esperti che può influire fare un buon drenaggio quindi progettare e installare un buon drenaggio adeguato può sicuramente dare un grande contributo a quello che è la raccolta per poi disperdere automaticamente le acque negli scarichi adeguate e appositi vi do un'altra notizia siccome sul dissesto idrogeologico secondo me se ne parla veramente tanto dal 2016 l'italia paga multe molto molto salate mezzo miliardo di euro all'anno dal 2016 pensate spendiamo più soldi per pagare delle multe nei confronti della roba che investirli invece e sistemare migliorare quello che è l'argomento principale sul dissesto idrogeologico che il drenaggio lineare che recupero delle acque preferiamo pagare molte multe ma non riuscire a convincere o comunque più che convincere ad operarci per migliorare la situazione quando parlo di migliorare la situazione non parlo solo a livello istituzionale e dipende da tutti tutti gli operatori del settore per un progettista progettare in maniera adeguata che in un piazzale l'acqua venga drenata nel modo migliore ma dal punto di vista dei distributori edili anche in questo caso trattare prodotti avvicinarsi a partner adeguati che spiegano oggi perché di tecnologia ne abbiamo tanta app che fanno calcoli idraulici quindi ci sono aziende veramente all'avanguardia in queste aiutare tutti insieme a creare più cultura all'interno di questo settore e ognuno di noi può sicuramente fare la propria parte come risolvere il problema quando si parla di drenaggio lineare la cosa importante e positiva che esiste una norma esiste una norma europea e adesso andiamo a toccare con mano alcuni argomenti fondamentali ma per risolvere il problema prima di parlare specificatamente di norme dobbiamo andare a capire come sono e quali sono i passaggi che possono aiutare a risolvere il problema tra i primi passaggi è sicuramente è obbligatorio governare le acque meteoriche per garantire la sicurezza sulle strade c'è la necessità di governare le acque meteoriche sulle strade per evitare tutti i danni causati da allagamenti dovuti proprio alla non regolamentazione del flusso delle acque cosa vuol dire? nel momento in cui costruiamo qualcosa e cementifichiamo qualcosa ci dobbiamo preoccupare che in quel punto dove l'acqua per natura non può drenare la dobbiamo raccogliere e cercare di defluirla e farla scaricare nei punti di raccolta più idoni è importante impedire il libero deflusso delle acque sulle strade in quanto creano pericolo sia le cose le persone non dobbiamo dimenticare che tutto quello che viene installato nel pubblico è un bene di tutti e questo bene di tutti deve garantire la sicurezza sotto tutti i punti di vista e in questo caso parliamo di sicurezza stradale avremo bisogno di una rete di professionisti preparati e consapevoli sui temi ambientali in particolare in materia idrogeologica quando prima ho detto che non dipende solo da un'associazione o dalle istituzioni, questa l'associazione si occupa di portare all'attenzione il tema alle istituzioni ma tutti noi operatori dovremmo essere in grado comunque di far elevare il tema della raccolta delle acque in maniera più evidente e il progettista può fare la sua parte, il rivenditore e distributore può fare la sua parte e non c'è dubbio che i produttori possono cercare di spandere l'informazione per far sì che questa cultura del drenaggio cresca crescendo la cultura diminuisce il rischio e aumenta la sicurezza stradale e tutto quello che riguarda la raccolta e i pericoli che possono derivare più che la competizione vale la cooperazione perché le azioni che noi intraprendiamo da privati hanno effetti su intere collettività ricolleghiamo all'argomento di prima essere cooperativi tutti insieme ci permette come dicevano stamattina sicuramente di affrontare una tematica di mercato molto più velocemente e questo crea comunque non solo sicurezza ma dal mio punto di vista crea anche business agli operatori del settore dell'edilizia occorrerebbe agire in filiera creando modelli gestionali standard ricavati dall'esperienza in collaborazione perché? Perché tutte le esperienze essendo l'Italia una nazione veramente diversa da nord al centro al sud alle isole ecco una cooperazione fatta tra produttori e una consultazione tra grandi distribuzioni ma credo che i produttori qui hanno un ruolo importante nel partecipare anche ai tavoli tecnici e istituzionali all'interno delle associazioni questo ci aiuterebbe a garantire non solo un tra virgolette business per le aziende perché questo il business comunque rimane e rimane in tutti i settori del mondo ma creare un business e dare un valore alla collettività risolvendo una parte di quello che è il problema del dissesto ideologico partendo proprio da una prima raccolta di questi grandi acquazzoni proprio da un drenaggio lineare i sistemi di drenaggio lineare hanno una caratteristica molto interessante hanno la caratteristica che oggi dal 2002 in realtà è una norma europea armonizzata quindi è una legge è una legge determinata da una norma che si chiama EN 1433 e questa è una norma dicevo armonizzata e già applicata nel 2002 che valuta la sezione di drenaggio adeguata che significa che tutti i produttori devono dimostrare che quel manufatto ha una determinata portata d'acqua è importante per fare i calcoli idraulici per i nostri progettisti la resistenza ai carichi statici e la resistenza ai carichi dinamici perché nel momento in cui noi posizioniamo un manufatto in un sottosuolo è chiaro che dipende dalla struttura del manufatto anche alle resistenze che potrebbero venire a mancare a meno dopo un'installazione quindi molto dipende da dove vengono installati questi tipi di manufatti la resistenza agli agenti corrosivi sale e scioglie ghiaccio queste sono le caratteristiche principali di questa norma europea armonizzata che vale per tutti quindi ogni produttore si deve attenere a quello che è una norma specifica perché vi dico questo? vi dico questo perché all'inizio mi sono presentato come Tony Principi come vicepresidente dell'ISES ovviamente sono anche una parte, faccio parte anche del tavolo per quanto riguarda la Uni dove si cerca sempre di monitorare noi come associazione tutelare i nostri ovviamente associati e tutelarli significa anche partecipare, continuare a fare un lavoro sia dal punto di vista normativo che istituzionale per tutelare quello che è un prodotto oggi sicuramente importante e che può risolvere, ripeto, una parte di questa drammaticità o criticità nel dissestro idrogeologico correttezza di installazione e manutenzione sono per questi tipi di manufatti una cosa importante bisogna non solo creare un buon manufatto ma una delle componenti chiavi è educare il mercato a una giusta installazione altrimenti se non c'è una giusta installazione comunque possiamo avere il miglior prodotto del mondo ma il risultato non sarà mai adeguato e comunque potrebbe procurare o un rischio se è stato installato male come a delle foto iniziali o addirittura comunque non risolvere il problema della raccolta di quel piazzale specifico la norma N.0403 come ho detto è una norma europea armonizzata quindi a tutti gli effetti è una legge e questa si può trovare tranquillamente dovunque e queste sono alcune principali caratteristiche la norma dice che i manufatti possono essere fatti con due categorie una categoria A e una categoria B la categoria A vuol dire che è un manufatto che ha una certa resistenza e può essere installato nella maggior parte dei casi senza un rinzaffo laterale la categoria B che rappresenta il 90% del mercato italiano ma anche dell'Europa è un manufatto che deve avere determinate caratteristiche e deve essere rinzaffato in un determinato modo tale che porti a un determinato risultato mi spiego meglio siccome parliamo di manufatti in calcestruzzo in generale ma in questo mondo del drenaggio esistono anche altri materiali la norma dice a prescindere di come viene prodotto il prodotto il risultato finale, il consuntivo che significa un prodotto installato a terra deve dare lo stesso risultato quindi si può produrre un manufatto magari in maniera più economica però la casa produttrice darà le indicazioni di come va installato per ottenere lo stesso risultato perché è quello che conta la parte del consuntivo finale nell'opera già installata nel terreno quindi si può fare un manufatto più economico ma tutti i produttori siamo certi e consapevoli che scrivono esattamente nel loro manuale tecnico le indicazioni di come va installato quel manufatto perché se questo avviene sicuramente nel consuntivo rispettando tutte le norme questo sicuramente è un vantaggio non solo in questo caso per il mercato ma anche per il problema che si cerca di andare a risolvere nel drenare quel tipo di criticità o di soluzione tutto quello che viene installato sulla strada anche in questo caso c'è una norma che è sempre l'anno in 1043 per quanto riguarda il drenaggio lineare e viene classificata dalle classi di carico che molti che è nel settore dell'edilizia conoscono tutti parte dalla classe di carico A che sarebbe un passaggio perdonale fino all'F900 che è un passaggio per quanto riguarda il settore aeroportuale un altro fattore molto importante in Italia ma quello che conta di questa norma è il prodotto deve essere in gelivo soprattutto nel centro nord d'Italia la norma dice che il produttore ha l'obbligatorietà di specificare se il prodotto è in gelivo o no e queste sono le sigle che identificano se sono state fatte delle prove quindi nessuna prestazione misurata o se ha un valore per quanto riguarda la resistenza ai agenti atmosferici questa la norma lo rende obbligatorio il produttore può decidere di fare questi test o no ma quello che conta siccome non siamo qui per parlare del manufatto in sé ma di creare cultura del drenaggio lineare è quello che conta che gli operatori quindi voi progettisti, voi distributori, voi rivenditori facciate ben attenzione a questi parametri perché se questi parametri ci sono vuol dire che il manufatto è stato studiato per essere più tecnologico più all'avanguardia ma sicuramente più sicuro anche proiettato al futuro un'altra cosa che dice la norma è che ogni produttore di questo settore deve garantire il manufatto per due anni è un po' come parlare della garanzia della lavatrice dei nostri letto domenici perché è un bene di consumo pubblico in questo caso quindi i canalizzazioni, i produttori di canalette devono comunque rassicurarvi che il manufatto ha una garanzia di due anni perché questo è previsto dalla norma e ricordo che la norma è una norma europea armonizzata quindi di conseguenza è una legge certificazioni perché parliamo di certificazioni? perché in Italia in questi ultimi anni e mezzo si è sentito tanto parlare di diversi tipi di certificati e anche di alcune cose nuove per quanto riguarda il mondo delle canalizzazioni le certificazioni che il progettista o voi distributori dovete richiedere sono le DOP che per legge devono essere pubbliche quindi chiunque produce ve lo dice un esponente di un'associazione devono essere pubbliche oggi le certificazioni devono essere scaricabili da qualsiasi utente con la massima rapidità e semplicità non c'è niente da nascondere poi c'è necessità delle certificazioni che possono essere di enti terzi certificazioni di S-9001 perché comunque racchiude la certificazione del produttore perché se non sia quella non si può entrare in un prodotto a norma europea armonizzata e poi un argomento molto interessante è il LID e il BRIM perché? perché in Italia in associazione sono arrivate molte domande dicendo ma il vostro settore della raccolta delle acque come si posiziona con il CAM? bene dall'ultima circolare del Ministero il dissesto idrogeologico non rientra nel CAM quindi non c'è bisogno oggi all'interno di un'azienda e comunque nel mondo del dissesto idrogeologico il CAM non c'entra si parla solo di edifici invece essendo una norma europea armonizzata in questo caso nelle canalette se un'azienda vuole avere sicuramente dei certificati di prestigio internazionale che entrano nel green bisogna avere sia il LID che il BRIM questa è una figura che ritorniamo all'installazione di un manufatto questa è una figura che fa capire come l'installazione di un manufatto deve essere fatta in maniera adeguata in un tipo di pavimentazione ovviamente all'interno di questa di questa di questa slide abbiamo utilizzato ovviamente una foto di un'azienda che è all'interno dell'associazione che in realtà rappresento anche io perché lavoro in questa azienda ma in questo caso è anche vero che l'Aurto facendo parte dell'ISES ci hanno autorizzato di utilizzare questa slide per far vedere alcuni schemi di installazione come dovrebbe essere fatta e qual è la scheda tecnica importante che identifica quali tipi di rinzaffi e di posizionamento da avere la canaletta all'interno di una pavimentazione prima di finire lascio in piedi questa slide quindi per fare un piccolo un piccolo un piccolo memoria di quello che ho detto cos'è che è importante è importante il dissesto ideologico è importante che tutti operiamo nella stessa direzione e c'è bisogno del contributo di tutti all'interno del dissesto ideologico ovviamente c'è il settore del drenaggio lineare e come ho detto all'inizio le associazioni AIS insieme all'interno della Finco si adoperano a livello istituzionale ma un'altra parte importante lo dovremmo fare noi operatori per fortuna nell'interno del settore del drenaggio lineare esiste una noma europea armonizzata che specifica parametri che specifica le caratteristiche del manufatto sia prodotto e messo in opera e questo sicuramente garantisce qualità in tutti i senti per tutti quello che serve è divulgare e far crescere l'interesse nel mercato e l'importanza che installare un buon drenaggio lineare può essere una componente un contributo ad avere meno problemi per quanto riguarda allagamenti o situazioni simili io ringrazio tutti ringrazio la disponibilità della possibilità che mi ha dato la Utrade e spero di rivedervi presto in qualche altra occasione buon pomeriggio a tutti grazie a tutti